Molti credono che i fantasmi non esistono ma il fuoco della passione può dar loro vita e donare la morte vivremo soli nel mio mondo di oscurità Julian Seles e di nuovo in cerca di preda Asia Argento una creatura infernale il fantasma dell'opera un film di Dario Argento un film di Dario Argento